Mi sembra giusto farvi vedere un pochino le tradinterne delle gighe da hua in questo caso. L'ho fatto in crisolo, questo è un pochino di cantiere, un po' di rifiuti, un pochino di cantiere, capre, un pochino di cantiere, sempre ben presenti e tra le solitamente asfaltate ce ne sono uno o due. Poi ce ne sono due, anche da hua, una strada principale, un'altra strada che porta fuori, il resto è tutto così, sabbia, rifiuti, roba di materiale da cantiere ed edilizia, sparso, pezzi di, questo è un sulchi di quelli per un caletto, di quelli per il trasporto dei cavalli. Ecco, ecco la riprenda, la galleria di cantiere. Qua lì sopra c'è la mia principale, Qua lì sopra c'è la vita, il casino del mondo. E qua iniziano a fare le boutique di, come le chiamano loro boutique, le piccoli ciotti come questo. Ecco, questi che vedete in maniera ondulata, sono tutte delle piccole bottighe di gente che lavora qua. E qua siamo sulla via principale. Un po' di vita. E adesso vado a prendermi un caffè. Poi pensate che fanno un ritiro dalla spazzatura due volte alla settimana. E passano anche a pulire, come vedete, di buonezza per terra. Però rimane sempre un po' civile. A parte che non esistono i cestini qua, perché da guai, proprio non sono previsto. Allora, vi saluto. Saluto a tutti gli aggettori volontari che da guai sono ragazzi.